La stagione teatrale 2012-2013 sarà una stagione di grandissimo livello. Abbiamo il meglio del teatro italiano a Luino, con spettacoli veramente di primordine. Cito solo alcuni attori, Lella Costa, Tullio Solenghi, ma lo stesso Teo Teocoli, che con uno spettacolo il 15 dicembre allieterà un grandissimo pubblico che già sta facendo la fila per acquistare i suoi biglietti. Nonostante il periodo di difficoltà abbiamo voluto proporre, continuare nella tradizione di proporre una grande stagione teatrale, con l'obiettivo anche però di avere il teatro sociale gremito in ogni ordine di posto affinché i costi possano essere sostenuti attraverso gli abbonamenti e l'acquisto dei biglietti. Luino si conferma una delle capitali della cultura della provincia di Varese con il suo teatro sociale e vi aspettiamo tutti, vi aspettiamo tantissimi perché abbiamo bisogno di abbonati, di amanti del teatro proprio per andare avanti nei prossimi anni a sostenere il mondo della cultura, il mondo del teatro, il mondo dell'intrattenimento. Grazie a tutti.